Di scena al Colangelo, uno scontro salvezza fra due compagini separate da appena due lunghezze. Il penne arriva a questo match col vento in poppa, dopo una serie di risultati positivi. Ma il baci galupo vasto marina è più che mai pronto a vendere cara la pelle. Al sesto minuto, prima grande opportunità per la formazione ospite, con Fieroni che a pochi passi dalla porta viene ipnotizzato da un superlativo d'amico. Passa un minuto e questa volta l'estremo difensore locale nulla può sulla conclusione a giro di letto, che realizza la sua decima rete stagionale. Al diciottesimo però arriva il pari del penne, con di Remigio che serve a centro aria Cellucci, che da attaccante di razza si fa trovare pronto trafiggendo l'incolpevole galante. Alla mezz'ora l'arbitro Andriambelo assegna un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di un difensore locale. Dal dischetto si presenta Fieroni che spiazza da amico, ma la sua battuta si infrange sulla traversa. Altro colpo di scena, al trentatresimo, quando il direttore di gara espelle il numero sei ospite Benedetti per somma di ammunizioni, fra le proteste dei giocatori in maglia bianco-blu. Il penne inizia a premere ed il forcing pennese al quarantasettesimo viene premiato con un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di squadrone su conclusione di Cellucci, che poi si presenta dagli undici metri bucando galante, che tocca la sfera senza però riuscire a salvare la propria porta. Passiamo alla cronaca della ripresa, guidati dalle immagini di Flavio Forcellese. Al sesto arriva la tripletta di Cellucci, che sfrutta a dovere un assist di Dercole, autore di un'azione travolgente sul settore sinistro. Passano due minuti ed il numero nove di casa fa poker, involandosi a campo aperto a sua azione di contropiede e perforando ancora una volta galante. Gli ospiti alzano bandiera bianca e dal diciottesimo capitolano per la quinta volta, quando guerra serve Cutilli, che trafigge nuovamente galante. Al ventiduesimo squillo improvviso degli ospiti, con una sventola dalla lunga distanza di Fieroni, che fa tremare ancora una volta la traversa. Non è ancora finita ed al trentaseiesimo arriva il 6-1 con Cacciatore, che premia la corsa di Serti, che penetra in area di rigore e gonfia nuovamente la rete. Dopo il terzo legno colpito dalla formazione ospite, al quarantaduesimo si scrive la lista dei marcatori, anche Cacciatore, che sigla il gol del definitivo 7-1. Misteriò dice che l'approccio alla gara non era stato dei migliori, dopodiché avete trovato il gol del pari ed un paio di episodi favorevoli vi hanno reso la vita particolarmente facile. Sì, non è stato facile l'approccio, ma non per colpa nostra, secondo me per l'abbrovo della scuola avversaria. E quindi dopo dieci minuti ho dovuto cambiare l'assetto tattico perché stavamo in difficoltà. Perché loro con i tre attaccanti non ritornavano e secondo me l'hanno preparata così per fare uno contro uno con i tre nostri. Poi da là abbiamo cambiato e sicuramente andrà meglio. Penso che siamo stati un po' fortunati sull'episodio del rigore. Sicuramente se loro facevano collo sul rigore forse qua stiamo parlando di un'altra partita. Però da là in poi penso che poi non c'è stata partita, credo che abbiamo strameritato.